I giovani italiani dovrebbero andare a studiare all'estero, ne sono convinte le famiglie degli stessi giovanissimi studenti che consiglierebbero questo ai propri figli al momento di fare una scelta. Lo rileva il Censis che ha diffuso i dati del rapporto 2012 sulla situazione sociale del paese, dal quale emerge come la crisi ha drammaticamente evidenziato come la laurea non costituisca più un valido scudo contro la disoccupazione giovanile, ne garantisca rispetto ai diplomati i migliori condizioni di occupabilità. Per questo le famiglie sono sempre più propense a far studiare i figli all'estero, anche se con enormi sacrifici, affinché ottengano una maggiore qualificazione. La propensione a ricercare percorsi di studio accademici più elevato, differenziale e competitivo, sembra emergere anche dai dati Ocse sui primi dieci paesi di destinazione degli studenti universitari italiani, che evidenziano tra il 2007 e il 2010 un significativo aumento di giovani che hanno deciso di completare la loro formazione superiore all'estero. Principale paese di elezione è il Regno Unito che nel 2010 ha ospitato il 19,3% dei quasi 60.000 studenti che risiedono all'estero.